Ancora baby ladri all'OVS al centro commerciale Palladio di Vicenza, questa volta nei guai un dicesettenne di origine marocchina. La ragazzina stava gironzolando nel negozio assieme a un'amica, i suoi movimenti hanno però destato i sospetti di un vigilante e infatti quando le due stavano per uscire è scattato l'allarme alla barriera antitaccheggio. Chiamato il 113, la ladruncola ha tirato fuori dalla borsa due rossetti appena rubati. Esiguo il valore, 8 euro, ma i dirigenti del negozio, stanchi dell'ennesimo colpo, hanno sporto ugualmente denuncia.